buona prima di iniziare la missione solita prassi vediamo un attimo 8500 grovi rossi vediamo ma io azioni avevano detto mi pare che non prendevo più nulla no quindi magari andiamo sugli oggetti e vediamo cosa possiamo prendere a 15.000 una sfera blu adesso costa e magari 7.000 quella viola così potenziamo il nostro devil trigger ok iniziamo missione 13 benvenuto nel caos guerra di sangue e di fratelli subito eh cos'è quello che sta facendo quello dietro del mago eh sì no stavo per avere il colpo ecco ok hanno altri non sono forti però rompono c'è tutto questo qua adesso che lancia magie cos'è cos'è ah forse scura no stavo aia no ero bloccato e qua ok mi hanno detto anche la vita perfetto ok dove andiamo a finire qui beh immagino raggiungeremo virgil aspetta aspetta qua scusa questo è così ah questo esatto questo me lo ricordavo tp2 distruggi tutti i nemici c'è una segreta 8 quindi mi assalate un bel po' vabbè patienza questi sono quelli odiosi ok vabbè telecamera fa un po' di capricci aspetta ma adesso con più potere demoniaco vuol dire che ha anche più vita no ok sei morto no 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 cosa è sta roba che schifo ah la ragnatela mia tela uh al pelo ok ok no ma da quando la lanciano guarda che ti faccio fuori allora vieni qua qui questa telecamera fa anche capriccio adesso ecco ecco dove sei eccolo dov'è oh bene è morto ok ok oh no ancora questo qua ma questo è immortale eh cioè fede c'è sempre c'è sempre dove sei no due ehm vedo niente oltre un po' troppo però eh scusare i miei gusti scusare i miei gusti mamma mia eh vabbè commissioni segrete non sono il nostro ford pazienza proseguiamo va dove ah ricomincio da qua ok ma non che la cosa mi interessi eh proseguiamo aspetta c'è un corridoio c'è una porta o è un vicolo c'è no c'è una porta vediamo prima questa qua ah c'è un un coso blu ah no è un vicolo no forse non è un vicolo cico perché c'è qualcosa di blu lì ma non si distrugge non posso andare in alto quindi vabbè andiamo a vedere l'altro allora di qua urca è di qua aspetta eh voglio vedere ah c'è qualcosa là terra diabolica benissimo non fare magie no devo saltare no ok molto perfetto dai sicura starlo ok qui qui è bloccato e ah di qua prosegue poi qua c'è una porta vediamo c'è ah un altro enigma ok beh immagino si rompe si si rompe ah ok sarà di qua che che deve andare la la luce mi sa allora allora aspetta così no vabbè però anche senza quello va bene no infatti cos'è cos'è ok ah o ricalco perfetto pezzo di o ricalco pare che possa aprire la porta del covo della giustizia e questo è intero eh quindi dovrebbe dare una grande quantità di energia ok usciamo allora servirà qualcosa eh telecamera ok qua ok no non ti rompete grazie oh no 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 muori ok ah ma qua ho capito siamo dove c'era quella porta grossa se si ah una sfera bianca vabbè ok tanto il potere ce l'abbiamo già tutto vediamo di qua cosa c'è ah questa arma viola eh si forse proprio per questo esatto però non riuscivo mai a fare una combo non riuscivo mai vabbè faccio perdere già faccio fatica con la rebellio a fare le combo vediamo forse si aprirà si ecco si disanguati si disanguati non riuscivo mai 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 ma riuscivo mai ma riuscivo mai adesso devo stare attento è velocissimo però eh ok non riuscivo mai no ok 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 direi che forse mi dobbiamo mi trasformare un po' in demone noccio mi ricarico un po' di vita cosa fai? cosa fai con quella palla? la spena ah si sta sfumato anche lui beh io non lo attaccherei in questo stato spero non sia infinito però un po' passerà no? sarà? ok non vorrei farmi malissimo eh a parte che forse non so neanche se lo prendo però vabbè ah oh finalmente è passato poi ci metto un po' di più dove sei? la telecamera veramente fa un po' un po' almeno volevo fare questo attacco comunque vabbè mi viene così no oh no potevo attaccarlo mi ha barcollato un attimo mi viene così mi viene così un po' madroniaca attenzione attenzione ah no 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 ah è vero che si ricarica la vita non ci avevo fatto caso è come me giustamente e però qua possiamo andare avanti in eterno allora scusa eh cioè riproviamo riproviamo non ho avuto questa accortezza diciamo vediamo vediamo mmm non voglio fare sto attacco dai uffia oh no e neanche questo volevo fare ma vabbè fa tutto lui lo faccio sempre così a un certo punto al diavolo lo stile voglio dire cioè no 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 ho separato adesso diventa un demone a meno che a meno che che come faccio a farlo tornare normale porca vacca ahia ho detto io fa malissimo forse devo semplicemente attaccarlo sempre ok ok oh attenzione si più di tre volte non dove sei no a stare anch'io 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 eh si forse devo attaccarlo sempre quando hai demone ok ok forse ho capito devo riservare il mio potere per quando lui diventa un demone praticamente morto per dici prego stardo no non ce l'ho il potere aia non lo vedo e vabbè dai oh oh due tre ce l'ho qualche oggetto controlliamo subito oggetti no però stella diabolica è acqua santa possiamo usare una stella diabolica ok così ci trasformiamo subito in demoni eh lo so ma ho bisogno di vita non ecco ecco ma You forced him into this. Is that what you think? Foolish girl. Bravo! Bravo! I never dreamed that things would go so smoothly. Well done, everyone. Well done. You. Don't be a bad girl, Mary. Or you can expect a spanking from Daddy later. Just as gonna spank your butt, spank your underwear. Insane, buffoon! I don't know where you came from, but you don't belong here. Zowie, that was close. But you've taken quite a trouncing today, haven't you, Virgil? You could have chopped me into confetti by now if you were in tip-top condition. Damn you! You have lost. Eh, he's the father. For you. Okay. Because you underestimated humans. What's going on? Good girl. Pure and innocent. Just like your mother. You bastard! It's time for your spanking, my dear. You want to know where the spell didn't break? Hmm, Virgil? You have the two amulets and Sparta's blood. You had everything you needed to unleash the evil. Yeah. I told you before. I don't like anybody who has a bigger mouth than mine. You are wounded and weak. Even I can do... This to you! Two amulets. A scent of Sparta's blood. Now, I need one more key. He sacrificed two things to suppress the tremendous force of this tower. His own devil's blood. And a mortal priestess. I needed you. In whose body flows the same blood as the sacrificed woman. His spell cannot be undone without your blood. It was quite a ride, you know. If any of you had died before getting here, our little plan would have gone to waste. Therefore, my job was to make you battle each other in order to weaken you. But at the same time, I had to guide you here and make sure that you were kept alive. I even went so far as dressing like a complete idiot! It's time for bed, Mary. You can visit your dear mother. Whoa! Try me. It's time for the clown to bow out, Arkham. Dude, the show's over. Impressive. I expected nothing less from the devil's descendants. But aren't you forgetting something, Virgil? The spell is broken. What do you think will happen next? Let's welcome chaos. What's your choice? In theory, she could have already been dead. The Yingling are like a wolf in her neck. just sit and wait wait for the birth of a new god I shall take over the power of Sparta Sessione compiuta, mamma mia Piano ma diabolico E' salta, bim, bim, bim Ok, salviamo Piano ma diabolico 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 Grazie.